Musica Ragazzi in questo video mentre correvo non si sentiva bene l'audio perché c'era il vento e il temporale Quindi vi lascio al video, buona visione Bello a tutti ragazzi, bello a tutti Comando a tutti, oggi siamo un compagno a tutti Ciao vedo Stiamo giocando a un ascolino Poi ci ho già un molto tempo Ciao Vabbè ho finito Questa è cattiva Questa è cattiva Questa è cattiva tommi la sembra che stia venendo in qua cazzo vai dalla topata oh cazzo poco a due e vabbè poco a due ci ha beccati raga ok raga troviamo l'altro nascondiglio guarda se tommi io vado dall'altra parte del mondo ma che cazzo conta? edo che stai colpando? stia giocando guarda tommi uno dall'altra parte del mondo c'è uccelli mamma vai da lì mamma vai da lì vai con vai con qua cazzo sta zitto vado a due ho contannato forse devo contare non si sa che è davanti quello che fosse ok raga non contiamo perché giù ha fatto danno mi veda tutti quindi godo sto andando qua dall'altra parte del mondo la la cedo fuoco fuoco dove è mh mh tommy cazzo la cedocca che sta guardando il campo è là ha visto tommy si è sentito un po' ha detto che ha visto tommy però a me non mi ha chiamato meglio la mia amica gli buttiamo addosso questo campo ma non sono tutto su un luogo dove cazzo è? ah tommy è là ma dove è cà? cà? no no hai tannato hai tannato prima tommy vei ho sentito anche ok ragazzi non ci tanneranno mai per primi ora sono lontanissimi praticamente sta contando tommy però non so dove cazzo è ah là l'ho visto sta venendo questo là c'è edu che stanno in gioco ha visto edu? ha visto edu? l'ho sentito io allora vediamo allora vediamo che cazzo è non ci tanneranno mai per primi è che cazzo è Bocco, Zell! Ok No, 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 no Stop all'eschio Aiuto, bella lega Aiuto? Oh cazzo no Bocco due Faccio il ballo delle parolacce Ok Ma io non so Ah, sì, vedo Allora È e non so quando scatta e non so quando scatta e aiuto e non so quando scatta 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 Grazie.